Nella prima mezz'ora di bandi online 344 domande sono state completate, chiarisco, quindi significa che in quel momento lì, a parte il fatto che bisognava andarla a portare, prendere i documenti e tutto, e a parte il fatto che il record man dopo 6 minuti della partenza del cosa aveva già completato, aveva già finito, la sua domanda l'aveva già fatta. Filselle 344 domande ha incominciato a processarle per portare poi al finanziamento mezz'ora dopo, le procedure di un tempo prevedevano la chiusura del bando, perché non dall'inizio del bando di cominciare a procedere, e prevedevano il notaio, l'attesa che arrivassero, la posta certificata e tutto, stiamo parlando che partivano parecchie settimane dopo. Invece, però la facilità, insomma uno ce l'ha messo in 6 minuti, era veloce, magari era un esperto, però 344 cittadini liguri, quindi non gente specializzata e tutto, in mezz'ora aveva già fatto la domanda.